All'indomani dell'identificazione della giovane trovata morta domenica pomeriggio a Salerno in un terreno di Via dei Carrari nella zona industriale, riconosciuta in Mariana Zarekes, prostituta scomparsa dallo scorso primo maggio, sono tanti ancora gli interrogativi sulle sue ultime ore e sulla ricostruzione della sua morte. Intanto si cerca di ricostruire il suo profilo, la sua vita, i suoi effetti, il suo lavoro. A Salerno Mariana era arrivata da quattro mesi e abitava con il marito e altre due ragazze in via Mobilio. Secondo i primi accertamenti fatti dagli inquirenti, la giovane è stata uccisa nella stessa notte della scomparsa, ma non è chiaro se l'omicidio sia avvenuto nel luogo del ritrovamento o se invece sia stata trascinata soltanto dopo nel terreno incolto in Via dei Carrari, dove il corpo è stato rinvenuto. Ed è sul tragitto e gli incontri che la ventenne può aver fatto quella sera che si stanno concentrando le indagini, anche grazie alle informazioni fornite dal marito, ascoltato dagli investigatori in qualità di persona informata sui fatti. Altre informazioni chiave potrebbero arrivare dalle colleghe di strada di Mariana, ascoltate dai poliziotti della squadra mobile, coordinati dal vicequestore Tommaso Niglio. Due le ipotesi investigative al vaglio, un serial killer oppure un protettore che rivendica il controllo della zona. Ma al momento non si esclude nessuna pista e si aspettano i risultati dell'autopsia per la conferma. Inoltre che l'assassino di Mariana sia lo stesso che a fine dicembre ha strangolato e ucciso Alina Roxana Ripa, ritrovata senza vita nello stesso appezzamento di terreno. Intanto il medico legale Adamo Maiese ha eseguito alcuni prelievi di tessuti per isolare il DNA della vittima e verificare la presenza sul corpo di tracce genetiche di altre persone.